Ecco le stanze dell'ex Ferrotel di Via Dandolo, già aperte. Tra una decina di giorni diverranno il secondo centro di accoglienza di Treviso, con i 26 migranti che verranno accolti nei quattro appartamenti dei due piani, nei cui corridoi i segni dei lavori della polizia in corso, con vernici, detersivi, stracci e ramazze varie. Tutte ancora senza corrente, ma tutte ridipinte alle stanze, piccole e spoglie. Già sistemati i bagni con i sanitari nuovi di Zecca, fuori intanto è in corso il setting di protesta, seppur contenuta della Lega Cittadina, contraria all'arrivo di nuovi clandestini con carta di identità trevigiana, dicono. Quando il loro status giuridico di profugo o non profugo verrà accertato, finiranno i finanziamenti del Ministero degli Interni. Questi signori verranno buttati fuori dai centri di accoglienza, ma essendo residenti in un comune ricadranno sui servizi sociali di quel comune. E il colmo è che gli espulsi, se non si muovono con le loro gambe, non verranno materialmente espulsi e portati ai confini, per cui anche costoro rimarranno in comune. Gli diamo la residenza addirittura prima che sia stabilito chi sono e a che titolo sono in questo paese. Però questi adesso per sei mesi hanno diritto a un'indenità di disoccupazione e magari anche quello che è il ricongiungimento familiare. Faranno come molti, che vanno a casa per cinque mesi e mezzo, poi ritornano per rinnovare il permesso. Faremo di tutto per trovare qualsiasi cavillo per non poterli mettere all'interno di questa struttura. E se Abdallah Kesraji, del centro Enlal, che gestirà l'accoglienza dei richiedenti asilo al Ferrotel, rassicura? Lì c'è una vigilanza sia da parte dei carabinieri, della polizia e anche dei vigili molto presenti. Tre residenti di Via Dandolo montano la protesta. Ti arrivano anche in casa, se trovano le porte aperte, ti arrivano dentro in casa senza neanche chiedere permesso. Cioè quindi sta diventando abbastanza invivibile e soprattutto le abitazioni stanno diminuendo di valore. Non vale più niente qui avere un'abitazione. Te ne vai o la lasci sfitta. Cioè è abbastanza così problematica la faccenda. Lei ha paura a girare di sera? Ma io non giro di sera. Non è che abbia paura, non giro proprio. C'è da chiedersi effettivamente cosa faranno anche i nuovi arrivati visto che tre migranti dell'ex Serena diversi, come questo ragazzo di 20 anni, l'hanno incontrato in Via Cavour, chiedono l'elemosina sparsi in giro per la città.